Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Dalla orpa al filibusse di Maurizio Silvestri Il sottosuolo livornese è sempre stato un problema per i costruttori edili. Migliaia di alberi sono stati piantati nel terreno per costruire interi quartieri come la Venezia. E già dapprima i pali erano stati infissi sul fondo marino per realizzare la fortezza vecchia. Basta scavare un paio di metri e si trova l'acqua, così per anni non ci sono state altre soluzioni. Ora, grazie al cemento armato, i sistemi sono cambiati e il parcheggio sotterraneo realizzato in Piazza Guerrazzi ne è un esempio. Con lo stesso principio, ovvero costruire dapprima i muri perimetrali e quindi scavare via la terra, è previsto il parcheggio sotterraneo di Piazza della Vittoria. I lavori sono stati ritardati dai problemi di stabilità che purtroppo ha da sempre avuto la chiesa di Santa Maria del Soccorso che sorge sulla piazza. I progettisti ritengono che la struttura del parcheggio non creerebbe alla chiesa più problemi di quanti ne abbia o ne abbia avuti sin dalla realizzazione dell'opera. Quando fu realizzata la rete filotrandiaria, poi dismessa, la parrocchia imputò crepe e piccoli crolli che si verificavano nel luogo di culto proprio ai nuovi mezzi. Ma nessun livornese ci credette ed è proprio da allora che in città, quando si vuole dare la colpa a qualcuno di un fatto nel quale non c'entra assolutamente niente, si dice «Ora dai laor par filibusse».